Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di QuelTaleale, eccoci qui di nuovo con FIFA 22, la nostra sportiveggiante, come sempre approfitto per ringraziare Electronic Arts per la K di gioco, noi proseguiamo con la nostra rosa, allora nell'ultimo appuntamento ci eravamo accaparrati qualche giocatore, come detto adesso siamo con i giovani perché il nostro obiettivo è quello di avere i giovani un po' in tutti i ruoli, abbiamo due attaccanti giovani, C.O.C. giovani, in realtà C.O.C. ne abbiamo due, anche Carvaio, poi abbiamo Consenzao, abbiamo Byuk, Marzen lo stiamo pian piano cercando di cambiare il ruolo però non l'abbiamo acquistato, due difensori e il portiere, allora, allora, avevamo come detto preso Omegari, Omeragic, così noi lo chiamiamo a piacere, beh dobbiamo ancora diciamo fare la conoscenza con i nostri giocatori, è stato di fatto che questo qui è un difensore centrale ma poteva fare anche l'esterno, noi lo stiamo mettendo come terzino destro ma per il momento non vorrei, lo sto anche allenando come difensore centrale perché ragazzi i due difensori centrali che abbiamo sono abbastanza vecchiotti, 30 anni e, oddio 26, non è vecchiotto però nel senso, continuare ad allenare questo qui come difensore centrale ci è utile perché noi abbiamo trovato tanti terzini destri, quindi, per quanto magari al momento non riusciamo ad accaparrarceli, però, insomma, è sempre buono magari avere poi un difensore centrale già ben allenato, quindi quello ce l'abbiamo, mi sembra che ci è arrivata un'offerta per Prestes e sarebbe interessante ma allo stesso punto un problema, vediamo un attimino, allora, vediamo un attimino cosa possiamo fare perché, come detto, in ufficio, allora, notifica, aspetta che mi era arrivata, qua abbiamo, perdiamo un po' di tempo inizialmente con il calciomercato che tra l'altro è la parte più figa anche, direi, allora, Prestes ci hanno offerto 4 milioni e 7, ancora non abbiamo risposto, proviamo a chiedergli, certo, 5 milioni magari non sarebbe male, per carità lui ha giocato bene, però 5 milioni sarebbe, sarebbe una buona cosa, trattiamo signori, trattiamo, partiamo da 5 milioni e 5, va, è un buon giocatore, no, che affare fatto, giovane, Allora, fammi vedere che giocatori c'hai tu, eventualmente come attaccanti, Pesic, 71, 29 anni, Allora, è un po' meno forte, ha due anni in più, però ha un milione e 9, potremmo comunque andarci a guadagnare prendendo un giocatore che comunque a noi farebbe il panchinaro, Oppure, chiediamo, scusa, fammi vedere se c'hanno un terzino, giovine, terzino sinistro, eh, 58 è un salame, un portierino, per quanto ce l'abbiamo pure noi il portiere è giovine, eh, no, Centrocampisti, vediamo che c'avete, 35, COC, vabbè, mo ce l'abbiamo, c'avete una certa, eh, questo è giovane, ma, guarda, facciamo una cosa, rinegoziamo il cartellino, dammi 5 milioni e 7, sta parato, Niente, no, perché a quel punto se ci danno quei 5 milioni andavo a prendere uno svincolato e, buonanotte, tanto ci deve fare il panchinaro, svincolati per il momento, cerco di non prenderli, però, Allora, facciamo un piccolo recap su, Allora, aspetta, vediamo, qui abbiamo un terzino sinistro, ah, che avevamo anche già preso, però, Scambio giocatori, ti do, comunque, un, Ce l'abbiamo un terzino, 22 anni, beh, comunque, non è male, quello 22, 34, vale poco e niente, per carità, eh, 35, vabbè, però, questi di una certa età, 35 anni, 300 mila, Più per il cartellino, ti do un milione e 100, così andiamo al suo valore e via, Iniziamo l'altro po' per lasciare partire, vogliamo 150 mila, Uh, aspetta, aspetta, Che scambio giocatore, no, no, E, oddio, Eward, Controfferta, Eward, chi era, scusa, eh, Aspetta, che non mi ricordo, se era un giovane, o... Ehm... Questo non lo vuoi? Più un milione e cento, Niente, scambio, Però, clausola di rivendita, 3%, un milione e cento, Vabbè, per lui ci sta, ci potrebbe stare, 3%, oddio, io di solito queste le evito, Perché questi si rivendono un botto di soldi, Però a sto punto ci può stare, Va bene, un altro terzino ci fa comodo, Quindi trattiamo, Dai, veloce, 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 Che... Un po' di mercato, ma anche... Allora, vogliamo parlare, Ruolo in squadra sporadico? Guarda, per noi va bene, 5 anni, Va benissimo, Nessuna clausola, Guarda, a sto punto ti offro... 1.100 Bonus di incaggio 7.800, Va bene, Vabbè, ce li risparmiamo, Tanto risparmiamo 500... A settimana, Quindi sta fatto, Uno l'abbiamo preso, In attacco. Allora, come detto, Noi nel vivaio avevamo Ivanov, Che potrebbe essere un buon giocatore, Il fatto è che al momento ha un overall di 51, Che è veramente poco, Quindi sostituirlo al nostro non conviene. Il piano di crescita, Ragazzi, io qua avevo messo equilibrato, Perché è veramente molto giovane, 7 settimane, E aumenta un po' tutto, Qua 8 settimane, 7 settimane quegli altri, Sennò dovrei invertire una volta uno, Una volta un'altro, Questo lo lascio equilibrato, Perché comunque a crescere cresce, E bene o male dobbiamo migliorare entrambi i suoi, La sua situazione, Simula tutto, Vai, 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 Bene, Donald Garvey, Eh, Garvey insomma, Garvey lo stiamo, L'hanno accettato per pagare 4,50 per Tulli, Troverai i tuoi dettagli, Ah, ok, Da parte sua, Per avviare tra te, Qui, Eh, vedi che però delegando, Quindi, per quanto riguarda Tulli, Accetto 4,50, Madonna, Emmond, 4,10, Garvey avevamo rifiutato, 6 milioni, O magari avevamo proposto noi, 6 milioni, Garvey per carità, Noi mo' ci abbiamo messo quell'altro, Però, Però, Oscilla tra 4,4 e 6,5, Oh, a sto punto, Deleghiamo, Non meno di, Scusa posso fa' così, 5,8, 5,8 è onesto, Deleghiamo, Signori, Che visto che vanno, Vanno forte, Questi a deleghia, Buonanotte, Eh, Programma settimanale, Vediamo un pochino, Vabbè, Allenamenti, Fissa riposo, Fissa recupero, No, Va bene, Poi ci facciamo la prima di campionato, Eh, Signori, Mo' andiamo un po' avanti con questi allenamenti, Di fino, E, Vediamo anche se riusciamo a vendere qualcuno, Buonanotte, Pizzi, Per 24 milioni, Sono soldi, Allora, Aspetta che, Saposo, Santiago Jimenez, È stato contattato, La squadra colorale, La formazione, Sperto 6 milioni, Eh, Ma io ci ho provato, Ma, Santiago Jimenez, Ah, Vabbè, Gli avevo offerto 6 milioni, Ma questo è un anno, Ah, Era quello stronzo, No, Non mi frega, Nasega, Capitatevelo, E poi a 6 milioni, Io avevo offerto 10, Gli avevo dato tutto quanto, Ma, Per piacere, Per piacere, Quella, Visto che avevamo dato 10 milioni, Ho detto, Questi hanno i soldi, Timber, Timber, Juri and Timber, Eh, L'Ajax, 15 milioni, Stessa cosa come sopra, Hub mercato, Timber, Non mi ricordo, Chi era, Dov'era, E perché, Certo, 15 milioni, Eccessivo, Difensore centrale, Però scusa, Eh, Non vuole trasferirsi, Allora, Che le fa, Non vuole trasferirsi, Solo nella sportiveggiante, Ma guarda questi, Allora, Accettato, L'accordo, L'accessione, Emmond, 410, È stato finalizzato, Ci ha dato 300, Tulli, Si è dato, La società, Le ha messo a disposizione, 300, Ok, Oh, Un milioncino, Oddio, Un milioncino, Se ci vendiamo, Qualcun altro di questi, Cavacioppi, Ci sta, Guarda Tulli, Come Fiero è felice, Allora, Jordan, Sky, Cykes, Difensore centrale, Che è quello che stiamo utilizzando, Adesso, Fatemi ricontrollare, Perché naturalmente, Non mi ricordo, Si, E noi ce l'abbiamo, Un sostituto centrale, Si, Però, Insomma, Insomma, Qua mi sa che non mi conviene, Difensori, Stiamo messi un po' maluccio, Quindi mi sa che, Conviene che, Rifiutiamo, Al momento, Non, Non ci conviene, Allora, A incontrare, Rappresentanti, Hanno accettato di pagare, 6 milioni e 3, E beh, Garvey, Per 6 milioni e 3, Ve lo do, Signori, Quegli altri, 6 milioni, No, Questi, 6 e 3, Li accetto, Questo, Guarda, Se vuoi, Posso delegare, Ma, Non devi scendere, Meno di 3 e 9, Qua parti da 5 e 9, A 3 e 9 te lo do, 3 e 9 te lo vendo, Ci mancherebbe, Ci sta, Conferenza stampa prepartita, Attenzione, Partecipiamo, Vai Brascio, Attenzione, Si inizia con il campionato, Abbiamo perso un po' di tempo qui inizialmente, Ma ci sta, Per il momento è felice, Fanno ben sperare, Che impatto avranno queste prestazioni, Sul morale dei giocatori, In vista della prima, O fiducia nella squadra, Ci stiamo impegnando tutti i giorni, Ci stiamo impegnando tutti i giorni, Eh, Noi lavoriamo, Quotidianamente, Per arrivare a, Della prepotenza, La promozione è più di un sogno, Per la squadra, Sportiveggiante FC, Dai, Possiamo puntare la promozione, Abbiamo i giocatori giusti, Guarda come sono tutti felici, Andiamo avanti, L'acquisto di, Omeragic, Che non sapremo mai pronunciarlo, Ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi, Potrebbe volerci un po' per inserirsi, Farà bene con questa squadra, Guarda com'è felice, Bravi tutti, Grazie, Grazie, Chiudiamo con le domande, Perché braciolone, Si è rotti i coglioni, C'è il peschereccio, Parcheggiato in seconda fila, Bravi tutti comunque, Bravi tutti anche qui, Allora, Eh, Questo, Sto attraversando un buon periodo, Guarda, Ci penso, Ci penso, Valutiamo, Romania sta per concludere, Che cazzo era andato in Romania questo? Ma che, Sto immedendo vanno questo? Eh, Signori, Scendiamo in campo, Con la nostra sportiveggiante, Contro il, Celtenham, Town, Allora, Allora, I nostri giocatori stanno bene, I nostri giocatori stanno bene, Pretest, Lo facciamo entrare, In un, Secondo momento, Per il momento, Entriamo con i titolari, Abbiamo come riserve giovani, Un, Esterno sinistro, Un, C, O, C, E, Pretest, Va bene il caso, Lo facciamo entrare, Live, Su questi schermi, E tutto pronto, Si attende solo il segnale, Ma rigorosamente, Live, Su questa reale tv, Sull'altro sito per le live, Se volete, Poi vediamo, Eh, Potremmo anche arrivare, A fare, Riparte il campionato, Per queste due squadre, Entrabe ci terranno a ben figurare l'esordio, Soprattutto i padroni di casa, Di fronte al proprio pubblico, Incontro con molti spunti interessanti, Che atmosfera, Soprattutto le, Potrebbe essere altrimenti, L'appuntamento di quelli, Che vanno sottolineati, Sul calendario, Nessuno, Pum, Ci prova dalla distanza, Ma non va, Ufficialmente la stagione, E la prima gara di campionato, L'emozione enorme, Enorme l'emozione, Come enorme la sportiveggianza, Della sportiveggiante, Che subito, Guardali, Come prova, E mano, E mano, Giovani, Ah, Per un pelo, Per un pelo, Attenzione, Che in difesa siamo, Veramente dei salami, Subito, Guardali come puntano, L'1-2, Vola Sesco, E ruba palla, Ruba palla Sesco, Patapam, Eh, Questo sportiveggiante, Può fare, Può fare bene, Dio, Orco 2, Allora, Non siamo riusciti, A fare tanti acquisti, Quanti ne volevamo fare, Nonostante, Il nostro budget, Fosse abbastanza generoso, Però, Più che altro, Perché, Cioè, Una squadra di terza categoria, È normale, Che tanti giocatori, Non ci vogliono neanche venire, Ma, C'è anche da dire che, Ecco 2, Ehm, La fregatoria è che, Quei calciatori, Cresceranno tantissimo, Quindi, Inizieranno già a valere tanto, Ma, Comunque, Noi, Cercheremo di fare, Anche qualche altro acquisto mirato, Per il, Maggiro direttamente, Avete per la prossima stagione, Non so, Il mercato di gennaio, È sempre un po', Un po', Un po' morto, Almeno che non vai a prendere, Qualche svincolato, Però, Gli svincolati, Gli potremmo prendere, Giusto per poi, Rivenderli, Subito, A fine anno, Per farci, Due spicci, Poi, Rinvestire nei giovani, Perché, Insomma, La cosa migliore, È puntare ai giovani, Signori, Noi abbiamo sempre puntato ai giovani, Braciolone, Un grande osservatore, Un grande, C'ha occhio, Non ha mai avuto una buona difesa, Nelle sue squadre, Ma, Questo è un altro discorso, La difesa è, E resterà sempre, Il nostro punto debole, La mette in mezzo, Uuu, I rischi, Madonna che, Che padellata, Piano, Ripartiamo dalla, Dalla tranquillità, Con Sensao, Se ne va, Con Sensao, Bravissimo, Con Sensao, Subito, Cross, Palla al centro, Eh, Dobbiamo puntare sugli esterni, Che possono comunque, Dire la loro, Soprattutto con Sensao, In realtà, Perché Buick, Qua, Buick, Come cazzo si chiama, Insomma, Un po' più salamotto, Anche se, In questo caso, Ho una, Grande per, Ah, Percussione, Da parte sua, Con Sensao è più veloce, Quindi ti dà più, Velocità, Saka, Purtroppo ormai, Già diventato, Incomprabile, Signori, Saka, Doku, Che era la nostra, Coppia di attacco, Di attacco, In realtà, Di strategia, Perché, Uno era, N'esterno, Sinistro, E l'altro, Era l'attaccante, E va, In questa maniera, Ormai, Diventati bravi, Anche nella realtà, Quindi costano una madonna, Niente, Non, Ancora, Dobbiamo carburare un pochino, Dobbiamo ancora ben capire, Come sfruttare al meglio, Questa formazione, Che per il momento, Piuttosto, Rimaneggiata, All'intercettata bene, Gli acquisti, Ci sono stati, Ma, Non sappiamo, Se saranno, Quelli giusti, Attenzione, Qui si invola, Sulla fascia, Prova di entrare, Anche senza palla, Porca, Troia, Sti piedi, A banana, Che c'hanno, Ce fregano un pochino, Primo tempo, Finisce con, La squadra sotto, Di un gol, Esordio, Non, Propriamente, Idilliaco, Per la sportiveggiante, Per ora, Ma, Possiamo, Sperare, In una, Buona circolazione, Ribaltamento, Dei fronti, Palla su, Consensao, Che, La da subito, Ma, Noi aspettiamo, Lui, Consensao, Bravi tutti, Proviamo, Di nuovo, A costruire, Un'azione, O più, Ma, Tu dimmi, Che cosa, Doveva essere, Quello, Un passaggio, Filtrante, Cosa, Che io, Ho premuto, E, Satan, Attenzione, 3 contro 1, 3 contro 1, Il portiere, Gli ha negato, L'ennesima, Gioia, Personale, Di questo match, Allora, C'è, Molta, Precarietà, Nella, Nell'abilità, Vabbè, Allora, Allora, Ditelo, Fermi tutti, Perché, A questo punto, Iniziamo, A fare qualche cambio, Biuk, Allora, Vediamo, Guindo, A livello di velocità, Com'è? Eh, Velocità, E più, E più Guindo, Poi, Per carità, C'ha, Dei piedi, Che, Lasciano un po' A desiderare, Ma, Va bene, Carvaio, Lo mettiamo, Dietro le punte, Poi, Prestes, Lo manteniamo, Perché, Anche un paio, Direi, Eccolo qui, Primo pallone, Toccato per, Guindo, Che, Subito, Si, Fa vedere, Insomma, Ma, Perché, Io, Premo il tasto, Per fare il filtrante, E fanno questa cosa, È normale? Voi, Vite, Sesso, Dei salami, È normale, Pure sì, Però, Non riesce a lottare, Grandi numeri, Sesco, Subito, Juara, Palla per, Guindo, Che si invola, Ottima la scena, Ma dimentica la palla, Che recupera la palla, Un po' lento, Nella, Attenzione qui, Attenzione qui, Al rientro, Bravo, Bravissimo, Buttiamo, Su Juara, Che chiede, L'1-2, E, Non lo tiene, In realtà, Perché lì, Il difensore, È stato molto bravo, Grande esordio, Per la sportiveggiante, Che sta facendo, Una grandissima figura, Di merda, Spesi, 30, E passa, Quasi 40 milioni, Nel mercato, Per far sta porcheria, A parte, Che il portiere, È una merda, Poi ci metto, Quello che ha, 15 anni, Là, Vite, Ce ne frega, Tanto, Se tanto, Mi da tanto, Non è che, Almeno, Il gol, Un gol, Per, Per far finta, Vai così, Vai così, Sulla fascia, Porco, Due, Chiamata al limite, Non era facile da vedere, È a velocità normale, Optano per il cambio, Pronto a bordo campo, Per entrare, Eh, Partiamo veramente male, Attenzione, I numeri qui, Bravo, Bravissimo, Questi sì, Che li possiamo fare, Questi numeri, Con questi giocatori, Rabona, Senza palla, Solo lui, Madonna mia, Sesco, Non si è fatto vedere, Quest'oggi, Perché non gli abbiamo dato, Una palla giocabile, Insomma, Per lui, Può essere utile, La mette in mezzo, L'uscita sicura, Del portiere, Nessun problema, Ma chi cazzo la dai, Vai così, Vai così, Vai che ce l'ha, Vai che ce l'ha, Grande Prestes, Come si chiama, Non lo so, Io lo chiamo Prestes, Bravissimo, Entra e segna, Certo va bene, Palla facile, Stai calmo, Stai calmo, Noi possiamo fare questo e d'altro, Possiamo sbagliare anche da lì, Prestes, Appena entrato, Subito, Spezza, Spezza la sta trama, Spezza la sta trama, Parca la traia, Ce l'aveva, Era un gollonzo quello, Veloce, Veloce, Tostè il giocatore, Dai, Vai Carmaio, Carmaio, Urco 2, Dai che, Aia, Sì però che bucio di culo pure, Per carità, Se la so pure meritata la partita, Però, Guarda che perdono tempo sti pezzi di merda, Come va a questo portiere, E' un sacco di patate comunque, Mannaggia la puttana, Pure in casa abbiamo perso, Ma che figure di merda, E niente signori, Con enorme dispiacere, E nessuna intervista per piacere, Evitiamo queste figure barbine, Tanto fomentati ci siamo andati, Complimenti, Complimentoni, Credo che avrei potuto fare meglio, Una partita contro la squadra, Guarda, Sei entrato e hai segnato, Quindi hai fatto la metà del tuo dovere, È stato bravo, Però, Guarda, Non prendertela, Don't worry, Stavi andando bene, Poi è successo un macello, Allora, Non sono riuscito a raggiungere, Un accordo con la squadra, Per il cartellino di Sky, Sky, Allora, Signori, Io, Vi, Vi dico la mia, Qua, Mi sa che, La situazione non è proprio, Ottimale, Questo può, Andare tra 68 e 88, Al momento sta crescendo, Ma, Non lo so, Quest'esordio mi ha, Mi ha un po' preoccupato, Mi ha impensierito, Perché non, Apparentemente, Questa squadra, Un po' così, In coppa, Di EFL Cup, Contro il derby, Ci vediamo, Signori, Al prossimo appuntamento, Mi raccomando, Come sempre, Lasciate like e condividete, Per supportare serie e canale, Ci vediamo alla prossima, E seguitemi, Sull'altro sito per le live, Secondo canale, Dove, Vediamo un pochino, Se magari proseguiamo la FIFA, Fatemi sapere anche voi, Vediamo un pochino come va, Dai, Ci vediamo alla prossima, Un saluto a tutti da Aquelta Leale,